Si trova a vivere un singolare paradosso. Secondo Banca Italia è tra i primi venti per ricchezza pro capite. Il suo mercato, peraltro, dei beni di lusso è il primo in Europa, con 15 miliardi, e addirittura il patrimonio netto delle famiglie sarebbe, secondo la Bundesbank, pari a 164 mila euro, il triplo delle famiglie tedesche. Eppure in giro non si respira aria di grande opulenza. Al contrario, i segnali sono tutti di un progressivo impoverimento. C'è qualcosa di sbagliato in tutto questo. Il buco nero dell'evasione fiscale, valutato, secondo alcuni osservatori, intorno ai 155 miliardi di euro. Cosa intende fare il Governo per affrontare in modo strutturale la piaga dell'evasione ed evitare che il peso fiscale gravi sempre sui soliti noti? Grazie. La ringrazio. Prego, Presidente Letta. Grazie e ringrazio il collega Pisicchio per questa interrogazione. Poco meno di un mese fa, quando in Consiglio dei Ministri abbiamo approvato il decreto fare, ho parlato dell'impegno di questo Governo per una lotta senza quartiera all'evasione fiscale. Lo confermo oggi. Non partiamo da zero. Negli ultimi anni i risultati di questa lotta sono stati di gran lunga migliori rispetto al passato. Il gettito 2012 dell'attività di contrasto all'evasione tra attributi erariali e non erariali è stato di 12 miliardi e mezzo di euro. Nel 2006 eravamo a poco più di 4 miliardi. Vogliamo fare però ancora meglio, sia con interventi immediati, sia con azioni di più ampio respiro. Le direttrici sono due. Da un lato intensificare l'attività di contrasto agli illeciti per incidere in maniera strutturale sul fenomeno dell'evasione. Dall'altro migliorare il rapporto tra fisco e contribuenti. Proprio il decreto fare contiene norme che ridisegnano il rapporto dei cittadini con il fisco e il ruolo di Equitalia. Perché il fisco deve essere amico dei cittadini, soprattutto di quelli che sono in difficoltà. Ma in un'economia globalizzata un'azione efficace di contrasto all'evasione fiscale non può limitarsi a misure interne. L'evasione fiscale ha una significativa dimensione internazionale e in sede internazionale va combattuta. L'Italia insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna ha avviato un progetto pilota per lo scambio automatico di informazioni fiscali contro i paradisi fiscali e utilizzando un modello di accordo basato su quello che gli stessi paesi hanno liberato con gli Stati Uniti. Quanto infine allo strumento specifico del contrasto di interessi, noi vogliamo costantemente estendere forme di applicazione e sperimentazione del contrasto di interessi. Questo in particolare abbiamo cominciato a farlo attraverso l'impegno di un altro degli interventi di questi 70 giorni di lavoro del Governo, quello sulle ristrutturazioni, sull'eco bonus, sull'arredo e sugli elettrodomestici. Perché dico questo? Perché il fatto che lì sia necessario, da parte di chi ristruttura, acquista, ovviamente usare tutti gli strumenti per dimostrare e per fiscalmente essere a posto, è un modo per far emergere attività economica che molto spesso in passato era attività in nero. Sono premiate le imprese in regola. È un modo per dare impulso a un'azione, appunto quella del contrasto di interessi, che vogliamo estendere e che attraverso questi sei mesi straordinari, che dureranno fino a dicembre, di impegno per le ristrutturazioni, di impegno per le ristrutturazioni ecologicamente compatibili, di impegno straordinario a favore della nostra industria nazionale dell'arredo degli elettrodomestici, insomma a favore della casa. Noi crediamo che questo aiuti anche la lotta all'evasione fiscale, l'emersione del lavoro nero e di tanto troppo nero che c'è nel nostro Paese. Grazie Presidente Letta per la sua puntuale risposta. Il problema è che la pressione fiscale si è fatta davvero insostenibile e colpisce in modo diretto chi ha un impiego fisso ai pensionati. L'82% del fisco poggia su queste categorie con un onere del 53%. Di contro, secondo attendibili rilevazioni, abbiamo un'evasione in Italia del 27% del PIL contro il 16% tedesco e il 15% francese. In materia di fisco, sono convinto, non esistono Paesi virtuosi e Paesi viziosi. Esistono buoni e cattivi strumenti di controllo e di dissuasione, capaci di produrre effetti oppure no. Come ha ricordato recentemente la Corte dei Conti, la lotta all'evasione in Italia